e buongiorno buongiorno bella gente buongiorno di e benvenuti in questa bella puntata mattutino d'orso lord ho da un'oretta e mezzo in giro a fare la mia solita passeggiata mattutino e fare anche un pochino di spese danno alla fallout ecco è comodo un'altra degli obbligato soprattutto e fare la spesa stare ore e ora a guardare gli scappare e scegliere tutti i prodotti per cucinare e preparare i miei soliti piatti che pubblico sempre per tutte le domeniche e anche questi giorni i festivi è il modo migliore per stare tranquillo riassarmi leggendo scrivere giocando condividere le storie con ognuno di voi trovare un trovatello e questa è ragazzi ma a breve mi sto per avviare a casa infatti sto nel viale dove abito a pochi passi rispetto dove stavo prima visto più largo è una strada che faceva molto da bambino che spesso gioca ora hanno costruito il supermercato stando specialmente attento a qui che corrono tutti come matti appena torna a casa comincerò live penso che continui stamani continuiamo un po con il nostro evil dead ma mi sto organizzando ragazzi può essere che in questi giorni un massimo sabato farò fino a me che la live dedicata al cinema cult e quindi probabilmente porterò proprio i tre capitoli della casa per fortuna due ritengo già disponibili il primo sarà un po difficile trovarlo ma penso di riuscirci quanto odio quando la gente mi metta a guardare mi metta a guardare mamma mia io non sono quei tip tog che si buttano in mezzo alla strada e fanno le imprese impossibile io se faccio la faccio in zona tranquilla se mette in mezzo ai casi senza non rischiare problemi ok ragazzi io sono arrivato vi auguro una buona giornata forse ne farò qualche giorno un'altra in questi giorni giorni prima che ritorni pure a fare alcuni dei miei lavori maturnali in effetti però comunque non è che sto mai fermo ogni tanto faccio qualche lavoro qualche lavoretto troppo bisogna pure sistemare beh buona giornata a tutti grazie grazie grazie